Sto per farvi vedere un grafico che non è di immediata comprensione, quindi vi chiedo un pochino di attenzione. Il grafico è questo e vi metto ovviamente il link in descrizione. E' quello del trend delle ricerche su Google della parola Dogecoin in tutto il mondo negli ultimi 12 mesi. Come vedete ci sono stati due picchi, però dovete sapere che in questo grafico ogni punto corrisponde ad una settimana. Che cosa significa? Significa che il primo picco iniziato nella settimana tra il 24 e il 30 gennaio è andato avanti per tre settimane. Mentre invece il secondo picco iniziato nella settimana tra l'11 e il 17 aprile è andato avanti per due settimane. Ma guardate cosa capita se al posto che prendere gli ultimi 12 mesi prendiamo solamente il 2021, cioè l'anno in corso. In realtà i picchi sono tre. Il primo per l'appunto è quello di fine gennaio durato tre settimane, qua invece ad ogni punto corrisponde un giorno. C'è stato poi un secondo picco più o meno a metà aprile durato circa due settimane. E poi ce n'è un terzo che ha iniziato a crescere il 4 maggio, cioè una settimana fa, e che potrebbe non essere ancora concluso. Cioè così come gli altri hanno avuto un picco iniziale e poi sono andati avanti ancora per un po', quindi questo picco iniziale è poi andato avanti per tre settimane, quest'altro picco iniziale è poi andato avanti per due settimane, noi siamo per quanto riguarda la ricerca di Dogecoin su Google ad un picco iniziale che c'è stato il 4 di maggio, il 5 di maggio scusate, che però potrebbe non essersi ancora concluso. Quindi potremmo avere, abbiamo già avuto una settimana diciamo di picco, potremmo averne anche un'altra. Ma c'è di più. Se prendiamo il trend, il grafico del trend, del prezzo di Dogecoin sempre nel 2021, scopriamo che ci fu un primo picco a fine gennaio, tra il 29 e il 30 gennaio, che corrisponde a questo picco qua. Poi ci fu un altro picco attorno all'8 febbraio che corrisponde a questo picco qua, di ricerche. Poi c'è stato un altro picco il 17 aprile, seguito da un altro ancora il 20 di aprile, che corrisponde a questo picco qua, del 16 aprile e poi dopo per l'appunto del 20, e poi un terzo del 6 maggio e 8 maggio, che corrisponde per l'appunto a questo picco qua. Quindi da questi grafici abbiamo capito due cose. Nel corso del 2021 ci sono stati tre picchi di ricerche di Dogecoin. Ogni volta che c'è stato un picco di ricerche su Google, c'è stato anche un incremento del prezzo. Probabilmente potrebbe essere anche al contrario, cioè ogni volta che c'è stato un incremento del prezzo, c'è stato un incremento di ricerche su Google. Questa è la prima cosa. Ma la seconda cosa che abbiamo notato è che i due picchi precedenti non sono durati una settimana, ma l'hype, cioè la bolla di interesse, il grande interesse, è durato la prima volta tre settimane, la seconda due settimane. Io sinceramente non mi stupirei se anche questa volta l'hype di Dogecoin durasse due settimane e non una sola. Per ora, questo hype odierno, cioè che è in atto ancora adesso, è durato una settimana, è probabile, è possibile che duri ancora per un'altra settimana. Come ho scritto ieri su questo post del mio blog, ovviamente vi metto il link in descrizione, ieri Elon Musk è stato ospite, anzi ha condotto il Saturday Night Live, in realtà sabato 8 maggio di sera, e ha definito Dogecoin come una sorta di imbroglio. C'è proprio tutto il video se volete vederlo. Cosa è successo al prezzo di Dogecoin? Se andiamo a prendere quello che è successo negli ultimi sette giorni, scopriamo che ieri, durante il Saturday Night Live, c'è stato un crollo del prezzo di Dogecoin, che è passato da circa 66 centesimi a 44 centesimi, ma poi si è ripreso. Dovete sapere che ieri, poi, Elon Musk ha twittato nuovamente questo tweet su Dogecoin, vi ho raccontato tutta la storia in questo articolo del Cryptonomist, di cui vi metto il link in descrizione, e proprio ieri, se andiamo a prendere il prezzo di Dogecoin nelle ultime 24 ore, quando è stata pubblicata la notizia riferita a questo tweet, la notizia è stata pubblicata prima, il prezzo di Dogecoin è balzato di colpo da 49 centesimi a 52 centesimi. Cioè, ve lo voglio dire in altri termini, questo picco, questa hype che è in atto, potrebbe non essere conclusa dopo la rivelazione, diciamo così, di Elon Musk al Saturday Night Live, che ha fatto scendere il prezzo di Dogecoin, crollare momentaneamente, ma in realtà questo hype potrebbe ancora andare avanti, perché comunque viene ancora alimentato, e lo si vede bene dal prezzo di Dogecoin, che nel corso delle ultime 24 ore, è di nuovo salito e si è di nuovo stabilizzato su una quota non particolarmente bassa. Se noi andiamo a vedere gli ultimi 30 giorni, vediamo che la quota attuale è molto superiore ancora rispetto a quella dell'ultimo hype. Quindi, a mio parere, se il primo hype si è esaurito in tre settimane, il secondo si è esaurito in due settimane, e il terzo è ancora in atto, e è in atto solamente da una settimana, possiamo immaginare che potrebbe andare avanti per un'altra settimana. A questo punto la domanda è, cosa farà il prezzo di Dogecoin se l'hype andrà avanti ancora per un'altra settimana? Per carità, potrebbe anche semplicemente tornare sui massimi di 0,73. La volta scorsa, vedete, fece così, andò su, poi andò giù, poi riandò su, ma più o meno allo stesso livello. Però potrebbe anche salire oltre gli 0,73 dollari. Infatti c'è un'altra informazione che dovete sapere, ovvero molti sostenitori di Dogecoin sono convinti che il prezzo possa arrivare fino a un dollaro, cioè in poche parole il doppio circa rispetto ai 53 centesimi attuali. E vi dirò di più, ci sono delle vere e proprie organizzazioni, soprattutto sui gruppi di Reddit, proprio per cercare di convincere quante più persone a comprare Dogecoin per portare il prezzo a un dollaro. Ad oggi, questo traguardo del prezzo di un dollaro potrebbe non essere assolutamente assurdo e potrebbe riuscire ad arrivarci. Per carità, forse non durante questo hype, che forse non è ancora finito, però magari il prezzo, se dovesse ancora salire nei prossimi giorni, forse potrebbe ritornare attorno ai 0,73 centesimi che ha toccato qualche giorno fa, ma potrebbero esserci ulteriori hype. Come abbiamo visto, questo è il terzo dell'anno. Però attenzione, se da un lato a questo punto l'obiettivo di un dollaro sembra possibile, non so dirvi quanto probabile, ma non è assurdo immaginare che Dogecoin riesca ad arrivare ad un dollaro, fate però attenzione, perché nel momento in cui dovesse raggiungere questo obiettivo, il traguardo previsto sarebbe stato raggiunto. Quindi forse a quel punto l'hype potrebbe terminare, potrebbe finire, anche perché dovete sapere che moltissimi possessori di Dogecoin ce lo hanno in portafoglio proprio per venderlo a un dollaro. Quindi nel momento in cui dovesse raggiungere quella cifra è probabile che molti vendano i Dogecoin che hanno comprato e che detengono in portafoglio. Quindi ve lo voglio dire in altri termini, io non mi stupirei se il prezzo di Dogecoin nei prossimi giorni dovesse tornare sui livelli massimi e non mi stupirei nemmeno se dovesse poi in futuro innescarsi un'altra hype che potrebbe addirittura portare il prezzo a un dollaro. Ma a quel punto se riuscisse ad arrivare a un dollaro io non mi stupirei affatto se a quel punto il prezzo dovesse scendere o addirittura crollare perché potrebbe innescarsi una valanga di vendite. Questo per quanto riguarda il breve periodo. Ma per quanto riguarda invece l'evoluzione del prezzo di Dogecoin sul lungo periodo. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che a differenza di ciò che comunemente dicono i sostenitori di Dogecoin Dogecoin non è la moneta del popolo. Questo grafico mostra il numero di indirizzi attivi ogni giorno sulla blockchain di Dogecoin. Per carità non è che ad ogni persona corrisponde un indirizzo anzi a volte ci sono persone che hanno più indirizzi però più o meno l'unità di grandezza è quella. Quindi più o meno solitamente Dogecoin viene usato da circa 60.000 indirizzi al giorno e quindi più o meno il numero di persone che lo usano potrebbe essere simile. Ma noi esageriamo prendiamo il picco il picco ultimamente è stato di 268.000 indirizzi attivi al giorno. 268.000 corrispondono allo 0,003% della popolazione mondiale. Cioè a usare Dogecoin al giorno d'oggi è una ristrettissima elite. Pensate che i sostenitori di Dogecoin dicono che Dogecoin è la moneta del popolo mentre Bitcoin è quella dei ricchi. Se noi proviamo ad aggiungere Bitcoin in questo grafico a questo punto Bitcoin è quello blu vedete che non c'è paragone cioè il numero di indirizzi attivi di Bitcoin è 4 volte quello di Dogecoin quando diciamo così va bene e invece quando va male siamo a 10 volte. Quindi il numero di persone che usano Bitcoin è enormemente superiore al numero di persone che usano Dogecoin cioè se Bitcoin al giorno d'oggi è usato da un'elite perché stiamo parlando di un milione circa di indirizzi attivi al giorno Dogecoin è usato al giorno d'oggi da un'elita ancora più ristretta. Quindi il fatto che Dogecoin ad oggi sarebbe la moneta del popolo in realtà è una menzogna e quindi se il suo futuro si basa su questa narrativa prima o poi probabilmente i nodi verranno al pettino. Ovviamente vi terrò aggiornati se ci saranno delle novità rilevanti se invece volete seguire questi avvenimenti giorno per giorno appena avvengono vi consiglio di iscrivervi al mio gruppo Facebook Bitcoin Italia aperto e senza scam di cui metto il link in descrizione. Un saluto ciao ciao